E' l'alba del 5 aprile 1995, la nostra avventura è a piedi del Gran Sasso. Avrei un obiettivo. Ci troviamo ai piedi del Gran Sasso, siamo a quota circa 2410 metri e grazie alla sector non-limits abbiamo i mezzi per continuare la nostra impresa. Abbiamo un tiro cingolato per poter salire sulla montagna. Abbiamo generi di sussistenza e tutto l'apparato tecnico per poter salire sigarette, scarponcini, cotton fioc, poco al coffee, trick track. E come vedete siamo in piena forma. Ecco in fase di prediscaldamento il cantante. Anche lui fa parte della sector. E' a voi il bassista. Che presenta il suo gruppo. E adesso colpo di scena. Il, ripeti? No, 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 Angelo Pini. Il nostro supporter. Sto cercando di controllare il livello dell'olio. Si trova la stanghetta. Eccola, eccola, eccola. Andiamo qua. Hop. Infiliamo nella sua... Questa. Pensi che si sente il rumore del motore? Ho capito la camera? Eh. Non penso da no. Non ho chiari in facciata. Ma si vede che stiamo a 30. 30? 30 all'ora. Siamo a 30 all'ora, piena salita. Questo è un messaggio per Luca. Luca, dove sei? Vieni a darci una mano. Non ce la facciamo più, non ce la facciamo più, Luca. Salva e dove siete buono. Siamo entrando nella galerina del Gran Sasso. Momento storico. Perché il biancino del De Bois, che è evidentemente superato da tutte le macchine della terra, e anche del cielo, sta per entrare nella galerina del Gran Sasso. Guarda, vale. Momento storico, Angelo, prego. Vieni a te. La galerina del Gran Sasso. Saluti al mondo. 10 km, saluti al mondo. Sì. Eccosi qua, luci. Vado, luci. Vai. Vado. Vado, vado con le luci del Pescotto. Pescotto, vado. Schiaccio il cassone. No, 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 no. Come era l'occhiaio a loro? Era l'occhiaio a loro. Come era l'occhiaio a loro? 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 Benissimo. Anni siamo scontati all'inizio. Vado, vado con le luci del Pescotto. Vado con le luci del Pescotto. Vado con le luci del Pescotto. Vuoi riprendere il danno? A volte quello deve fumare sempre, no? Vado con le luci del Pescotto. La cucchiaio dell'albero. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.